Eccoci qui, rientriamo e siamo pronti per fare le valutazioni di una stagione che è andata. Non come avremmo voluto, ci sono due gironi, il primo nel quale il Napoli ha messo insieme 34 punti, i 43 del girone di ritorno per un totale di 77, che non bastano. Complessivo il percorso di Gattuso, 121 punti in 61 partite di campionato, con una media molto alta. Quasi due punti, volessimo attenerci semplicemente alla media, che però non basta. Il Pagellone, che non è stato redatto da me, attenzione, questo ve lo do come anteprino. Il Pagellone è lato, non c'entra niente neanche io. E non c'entra niente neanche Montervino. E chi l'ha fatto? Eh vabbè ragazzi, non posso dirvi tutto. Però dovevi fare anche il nostro di Pagellone, eh? Sì, lo riproponiamo al volo. Tipo Montervino 8, Cagliazza 9. Ah sì, magari in chiusura. Allora ragazzi, ve lo illustro rapidamente, i portieri, 7 Ospina, quindi Ospina più di Meret. E anche in termini di presenze ci potrebbe stare. Poi vi lascio continuare. I difensori, vedete anche voi, il voto più alto è quello di Di Lorenzo. Sufficienza a Koulibaly, Manolas. 6,5 per Rachmani, in barba a quello che ha combinato ieri, non esultando. In barba all'esordio contro l'Udinese. 4 a Maximovic, che andrà via. Insufficienza per Mario Rui. 6 di stima a Goulam, con la speranza che possa finalmente superare i suoi problemi. 5 a Baccaioco, la valutazione del giocatore che era più atteso in mezzo al campo. Zilinski 7,5, anche se ieri l'ho visto troppo pallido. Ma come dice Carlo, la partita di ieri è un'altra spesa, non conta. 7 a Demme, che non è Mario, ma è Diego. 4,5 per Lobot. Lobot che è senza voto. Bravo. Ok, ok, no, no, vi lascio continuare. Elmas 5, Fabian Ruiz, che giocherà agli europei con la maglia di Spagna. 6,5, voto altissimo e secondo me molto meritato per Politano. Insufficiente. No, non sono d'accordo. Continuerete. 8 a Insigne, lì c'è un grosso punto interrogativo sul rinnovo. Non puoi mettere Mertens e Petagna sullo stesso gradino. Mertens 5,5, 6,5 si meno alla prima stagione molto difficile. 7,5 per Lozano, senza voto naturalmente Milic e Llorente. Guardate in testa il pagellone, 2,5 per De Laurentiis e Gattuso. Io credo che Gattuso invece qualcosina in più gliela darei io. Perché la gestione che ha avuto da Verona andata, a Verona ritorna, è stata una gestione per me. È stato un viaggio. È stato un viaggio. È stato un bel viaggio, bello lungo. È stata eccezionale. Ha ragione Ciccio, perché se sentiamo da colpe Gattuso nella partita di ieri, allora io credo che sia 7, non sia neanche 6, caro Ciccio, secondo me. Se sentiamo Gattuso da quelle che sono state le colpe di ieri, e l'abbiamo detto tutto, che la squadra è entrata in campo, demotivata, deconcentrata… Non lo puoi sentire. No, scindiamo il discorso, io sono d'accordo con Salvatore. La partita di ieri… Comunque… Però nell'ambito di tutta la stagione hai fallito la qualificazione Champions, che era l'obiettivo dichiarato della società, che ti ha dato una rosa altamente competitiva. Questa rosa, purtroppo, non l'hai mai avuta a disposizione. Perciò, secondo me non merita 5. No, per me merita 6. Eh, bravo, esatto. Perché la sufficienza gliel'ha dovuto scendere in virtù del fatto di… È tutto quello che ha detto Alfredo. È certo. Mentre mi sta bene il 5 a De Laurentiis, che non ha fatto il De Laurentiis. Ah, perché, caro? Cosa avrebbe dovuto fare, secondo te? Ma il Presidente quest'anno non ha fatto quello che di solito lui fa. Il Presidente è molto lucido nelle sue decisioni. Stavolta un po' si è fatto prendere da qualche cattivo consigliere, un po' è ritornato sui suoi passi, un po' ha avuto timore. Un po' ha dato confidenza a qualcuno che… Io credo che apprezzerei se De Laurentiis tornasse a fare De Laurentiis. Prima sentivo dire di giunto. Vi voglio ricordare che in 13-14 anni di presenza De Laurentiis, il Napoli, questo è il terzo direttore sportivo, Paolo Marino, Bigon Riccardo e Cristiano Di Cristiano. Perché dico questo? Perché il Presidente ama i matrimoni lunghi, a dispetto del carattere fumantino, a dispetto del fatto che sia abbastanza litigioso e spigoloso nel carattere. Quando si lega ad una persona, si lega nel bene e nel male. Poi possono passare periodi più o meno brevi dove con questa persona non va d'accordo, dove non gli rivolge la parola, dove addirittura tra virgolette gli fa i dispetti. E potrebbe essere accaduto con Pier Paolo Marino, potrebbe essere accaduto con Riccardo Bigon e non escludo che sia accaduto e stia accadendo tuttora con Cristiano Giuntoli. Ma questo non va ad inficiare quello che lavorativamente è un rapporto solido. Io sfido chiunque abbia avuto a che fare con De Laurentiis nel mondo del calcio che dopo aver avuto questa esperienza non parli bene De Laurentiis. Un motivo pure ci sarà. Si litiga con Edireia, Edireia se ne va, passano gli anni Edireia riconosce il ruolo De Laurentiis. Quale ha detto difficile? Litiga con Walter Mazzarri, passano gli anni e Walter Mazzarri riconosce il ruolo De Laurentiis. Litiga, ma molto tra virgolette queste litigie, sto dicendo, il vero litigio è stato qua Edireia. Litiga con Benitez, il quale sembra voler scappare da Napoli e oggi Benitez non perde occasione per magnificare la visione strategica di De Laurentiis. Posso continuare parlando di Ancelotti, preso tra virgolette quasi a calci, se Ancelotti non avesse firmato con Leverton, Ancelotti sarebbe stato richiamato di corsa da De Laurentiis e il rapporto tra i due è straordinario. Cosa bisogna aggiungere? Evidentemente nella sua litigiosità, nel suo carattere fumantino, nel suo voler primeggiare, in quelli che sono tutti i difetti di quest'uomo c'è un grande pregio. Una volta che chiude un contratto, lo chiude con una stretta di mano, mantiene fede al contratto e lascia carta bianca. Poi, come tutti i rapporti di lavoro, ci sono alti e bassi, magari stavolta più bassi e meno alti, però viva Dio, la storia, io non parlo di chiacchiere, parlo della storia recente del Napoli e questa, il dato molto chiaro. In questa pagella manca un elemento, la comunicazione. Tre. Tre, perché non è possibile che in un girone intero i giornalisti, gli opinionisti, ma qualsiasi mondo dei media, abbia dovuto fare a meno del pensiero di Gattuso, piuttosto di uno sfogo di Laurentiis o piuttosto di una disamina di un calciatore. Io credo che ieri, ormai se la volevamo mettere sul fatto della scaramanzia, è venuto meno pure questo fatto della scaramanzia. Quindi io credo che ieri Gattuso avrebbe dovuto chiudere la sua esperienza nel Napoli facendo un resocondo, sicuramente conoscendolo non avrebbe attaccato il Presidente. E quindi credo che questa altra imposizione del silenzio stampa sia stata errata da un uomo, dell'Aurentis, che è di comunicazione, che fa cinema, che il cinema è comunicazione. Non ti è piaciuto? No, ma non è piaciuto a nessuno perché è sistematico. Non mi ricordo quando non è successo, ma mi ricordo che è successo spesso, che quando le cose non sono andate bene, silenzio stampa e silenzio stampa fino alla fine. Ad oltranza. Dario? Io sulle pagelle vado controcorrente su due o tre pagelle. Fabian Ruiz gli do sei e non sei e mezzo, perché io guardo tutta la stagione. Lui ha avuto tre mesi top. Di grande difficoltà all'inizio. Ha avuto tre mesi top nell'ultimo recente passato, ma poi non mi dimentico il prima. Un altro voto che do in meno è un cinque e mezzo a Isai contro il sei. E dall'altra parte io anziché sette e mezzo a Lozano gli davo sei e mezzo, perché anche Lozano ha avuto tre barra quattro mesi di top. Cioè chi ha avuto... Poi però ha avuto l'infortunio che lo ha... Chi ha avuto il rendimento è stato in signe. Bravo, stavo dicendo questo. Cioè se tu devi fare la prima partita contro l'ultima, devi dare una valutazione. E sul resto sono d'accordo. Sono d'accordo anche sul sei a Colibali, perché quest'anno, nell'anno in cui lui doveva prendere per mano la squadra, è stato l'anno forse peggiore della sua gestione. Il sei lo merita Petagna, secondo me, perché da terzo, quarto attaccante, si è tirato il Napoli sulle spalle, ha fatto qualche gollo importante, penso il gollo a ben evento della vittoria. Insomma, voglio dire, per quello che doveva essere l'impegno di Petagna, il sei è un voto che secondo me merita. Da chi si riparte Gattuso ha autora la scelta di De Laurentiis, chi vorreste come nuovo tecnico, naturalmente... Beh, l'ha già scelto. Ma neanche... Ne siamo convinti. Ne siamo convinti tutti. Guarda, io sono dell'opera... Dicono di un incontro mercoledì e poi non lo so. Allora Carlo, scusa un attimo, presentiamo, abbiamo 50 secondi su Sergio Consensao, vediamo questo contributo, ricordando ovviamente che godrà sempre di stima eterna da allenatore, fosse solo per il fatto che il suo porto ha estromesso la Juventus dalla cegna. Anche la Roma, l'anno prima la Roma. Quindi, pensa te. Sempre con Consensao in panchina. Pensa te. E' stata da quattro anni. Vediamo. In molti lotti lo ricorderanno in Italia con le maglie di Lazio, Parma e di Inter, altri invece come l'artefice dell'eliminazione della Juventus dalla Champions di quest'anno nelle vesti di allenatore. Da luglio 2017 Sergio Consensao siede sulla panchina del Porto e quest'anno ha chiuso un ciclo di quattro stagioni dove ha vinto due volte il campionato, una Coppa Nazionale e una Supercoppa Portoghese. L'ultima stagione l'ha da poco terminata al secondo posto, mentre in Champions è stato eliminato ai quarti dall'attuale finalista Chelsea, in precedenza esperienze col Braga, Ghimaraes e Nant. Ad oggi è considerato uno degli allenatori emergenti in Europa. Predilige un calcio molto pratico, alquanto camaleontico, passando spesso da un 4-4-2 molto offensivo a un 4-3-3 con grande spinta dei terzini, senza particolari difficoltà. Ma anche 4-4-1-1 in fase di non possesso, così è successo anche al Porto di variare il modulo a seconda delle esigenze. Si è dimostrata una squadra molto solida alla sua, capace di una ottima propensione offensiva. L'assetto tattico ha esaltato le doti di molti talenti. Così abbiamo presentato Sergio Consensao, ci siamo andati vicino o no? Sì, no, ti dico la cosa migliore che è un pratico, cioè è una via di mezzo tra il Simeone in certe situazioni e anche un calcio, diciamo, fisico-offensivo. Fondamentalmente gioca 4-4-2, è un po' lo scheletro del Napoli, cioè non è che devi andare a comprare dei giocatori particolari, perché gli esterni ce li hai, sì è vero, poi può volere quel terzino. Per esempio, prima guardavo le immagini, Pepe, per quanto sia grande, è un giocatore che qua come personalità farebbe bene. Stai scherzando? Ho pensato la stessa cosa. Uno se dovesse essere... L'ho visto e in quel momento ho pensato quello che... Manca quella figura, mi è venuto in mente che manca quella figura. Cioè sarebbe quello... Sarebbe quel tipo di giocatore. La partita di ieri con quei giocatori in campo, ma non la sbagli mai, ma è impossibile, non si discute. Poi per l'amore del cielo si può perdere, anche con quelli in campo. Ma come atteggiamento, approccio, mentalità, non le sbagli mai. E soprattutto un a zero sopra. Ma sono giocatori abituati a certi tipi di difficoltà. È quello che ho detto prima, Ciccio. Sono giocatori molto bravi, da Lorenzo, Insigne, a Fabian Ruiz, Meret. Sono tutti calciatori che purtroppo non sono abituati a vincere. Che purtroppo non hanno la mentalità di potersi... Però, per l'amore di verità, pure quando hai avuto i giocatori abituati a vincere, penso ad Albiol, penso a Pepe Reina, penso a Iguaini... Oddio, dobbiamo metterci d'accordo. No, però hai vinto. Hai vinto uno scudetto, però comunque non hai vinto per quello che dici. Però, Carlo, scusami, tu credi che con Albiol e Pepe Reina, ma neanche in campo, o nello spogliatoio o in panchina, questa partita non sarebbe stata diversa rispetto a quella che è stata? Non lo sapremo mai purtroppo. No, perché con Albiol e Pepe Reina... No, Pepe Reina non c'era, ma con Albiol in campo, con Iguaini, Napoli-Lazio, quella famosa Napoli-Lazio per vincere, per andare in gioco lì. No, 2 a 4. Fini 2 a 4, 2 a 0 per la Lazio, 2 a 2, ricorda, calci. Iguaini si mette il tuo pannolino lì, e mando il pallone in curva B. Ma poi non lo sapremo mai. Vorrei, voglio tornare su Consaisano, perché... Su Consaisano, sai come si dice, per quanto mi riguarda? Se non sai non parlare. Io su Consaisano so poco, le mie fonti non mi confermano, io resto in attesa di capire quello che succede. Questa è la mia forma mentis, per quanto riguarda la mia professione. Se non sai non parlare, allora piuttosto che buttarmi in questo filone, nel codazzo, io ho chiesto alle mie fonti, chi mi segue lo sa, io cerco di dare sempre informazioni nei limiti del possibile veritiere, a volte mi succede, tante volte a me no, però io non ho avuto confermi, quindi mi sembra giusto e corretto. Te l'hanno escluso? No, non te l'hanno confermato. Non me l'hanno confermato. Mi sembra giusto dire, siccome non so, non parlo, però mi sembra corretto portare questa tesi. Poi se mi diranno, guarda Carlo, allora è Consaisano, sarò io il primo a dire Consaisano. Allora ai tecnici io chiedo, non sarebbe stato meglio un tecnico italiano che conosce questo, visto, visto... Non sarebbe meglio, perché alla luce di quello che ha detto Carlo, perché poi vorrei aggiungere una cosa anch'io. No, no, voglio finire, abbiamo visto Fonseca, in Europa League, però il campionato italiano è tutta altra storia, non pensi che Consaisano... Però Consaisano ha della sua carriera da calciatore. Ha fatto in Italia, la cosa l'ha fatta in Italia. 20 anni fa, dai. Da calciatore, pure Gattuso ha giocato tutto quel tempo il campionato del mondo e sta cercando di diventare allenatore. Quindi dice più dentro al calcio italiano. No, poi aspetta, ha fatto la Grecia, il Belgio, la Francia, il Portogallo, questo sarebbe il quinto campionato, nonostante l'età giovane. Cioè, noi parliamo di Ragneri che ha mercato all'estero, cinque campionati sono tanti, sono quelli che ha fatto Ancelotti, ha un'età giovane, eh. Cosa sono? 46. Aspetta, aspetta, Alfred, queste foto, te le ricordi? Guarda cosa abbiamo tirato fuori. Pensa che di quella... No, questa me la ricordo, io lì ero un bambino. Guarda che fotomontaggio ha fatto Dario là dietro. È bellissimo. Photoshop. Questa è la Coppa UEFA? E guarda quest'altro fotomontaggio. Ma quello è Couto. Quello è Couto. Caspita, bella bella. Di schiena è Almeida, te lo ricordi Almeida? Come? E Favalli sopra. Ravanelli, sì. Qua sono tutti allenatori, Mialovi sopra, Inzaghi, Consessao, Simeone, poi Cero, Arasveron, Lombardo, Mancini, Io, Nedved, Ravanelli e Couto. Grande squadra questa. Ravanelli, che allena? Ravanelli, che allena? Ravanelli, allena in Francia, allenato in... No, mo, che allena? Fallo pieninista, fallo pieninista. Adesso non lo so, però dico allenato. Ti lascio completare su Consessao, poi vado ad Alfredo perché ha da aggiungere una cosa. Dal punto di vista tattico, per la continuità, perché ora... Scusa, chiamalo. Lo chiamerà. Non risponde. Lo chiamerà senz'altro, anche se il contattino già l'ha avuto. Scusami Dario, dal punto di vista della continuità tattica, perché poi è la cosa che ci interessa di più. Abbiamo detto fino al penultimo atto, anzi, fino prima di Napoli-Verona, però che grosso rammarico, perché il Napoli forse è la squadra più divertente al momento della Serie A, anche più bella da vedere dell'Atalanta. Lasciamo fuori questo Napoli-Verona, che storia parte? Si può dare o si potrebbe dare continuità tattica con uno come Consessio? Avrebbe una logica il fatto che comunque il Napoli negli ultimi tre mesi, insieme all'Atalanta, come dici tu, è stata la squadra che ha giocato il miglior calcio, soprattutto nei tempi, nei automatismi, nella squadra corta, cosa che la partita col Verona ha cambiato completamente, abbiamo capito il perché. Però ti dico, dai continuità. È come se tu alza solo, prendi un allenatore che gioca 4-2-3-1 come gioca De Zervi. Porti avanti quel discorso con quelle caratteristiche e con quella filosofia. Avrebbe una logica poter prendere Consessao, perché comunque hai meno lavoro da fare. La base c'è, per dirti, lo Zelinsky dietro la prima punta, farebbe lo Zelinsky dietro la prima punta anche con Consessao. Oppure il Politano di turno, piuttosto che il Lozano, sarebbero nella loro posizione. Questo per dire a Grandinini, non arriva una persona che stravolge. Se tu vai alla Lazio, che cambia in zaghi, dalla difesa 3, passi a un allenatore che fa una difesa 4 e cambi completamente. Ma cosa deve migliorare questa squadra? Appunto, cosa deve migliorare lo chiedo a te, soprattutto riprendo quello che... Però ti ho conto che questa squadra, così come la vedi oggi, perderà dei calciatori. Quindi andiamo incontro anche ad una rosa che non sarà la rosa di quest'anno, che abbiamo tutti quanti definito larga e qualitativamente importante. La rosa dell'anno prossimo sarà larga perché il Napoli sarà impegnato anche in Europa, ma forse qualitativamente meno importante di quella di quest'anno. Anzi, mi sento di dire, tolgo il forse, è meno qualitativa rispetto a quella di quest'anno. Non perdiamo di vista. Io, per la scelta della natura... Quella estra va bene, secondo te? Cioè, ti piace? Non tanto? Non mi fa impazzire. Poi non lo escludo, ma non mi fa impazzire. Alfredo doveva dire... Io faccio una premessa, è bravissimo, benvengono le esperienze che tu fai, come dice Dario, in altri campionati per poi completare. Per me è un'avventura, ti spiego per quale motivo. Per me, i portoghesi in Italia attecchiscono poco come allenatori. Cioè, Fonseca l'hai visto per com'è, ti potrei dire anche Paolo Sosa, l'hai visto per com'è e per come non ha attecchito. Corri un rischio troppo grande, perché per memorizzare, lo dice la storia, non le sciocchezze che sto raccontando io, ci vuole del tempo. Io spero che il Napoli sia ancora in tempo per fare una frenata e per andare su una soluzione italiana giusta. Allegri era in pole, se tu sarebbe stato in casa... Ma Spalletti ha voglia di allenare. Io penso tutta la vita a Spalletti, con tutti i rispetto per Consiglio Sao, che magari arriverà qui e farà il triplete. Vincerà Coppa Italia, Europa League e campionato. Però dobbiamo parlare prima, perché dopo sono bravi tutti. È un'avventura. È un'avventura che secondo me non dà continuità a quello che ha fatto il Napoli. Cioè, tu non fai una cosa in linea con le tue scelte. Però è un'avventura anche con la nuova dimensione. Ha maggior ragione con la nuova dimensione, perché tu devi preparare a salutare Goulibaly, Fabio Ruiz. Quante percentuali diamo a Insigne con l'area che tira? Ditemelo voi. Ne parliamo dopo la pubblicità. Perché salivano, scendevano la Champions, senza la Champions scendiamo piuttosto che salire. Ed altre cose che secondo me si materializzeranno. Perché altre situazioni le dovrai anche valutare. Dovrai valutare Lozano, dovrai valutare tante cose. Dovrai valutare l'anno in più di Mertes che ancora ha, se ti conviene o non ti conviene. A quelle condizioni, come la pensa lui. E siamo arrivati a 5-6-6, baccaio colo, perdi. È tutto da rivedere. Se il rischio lo vuoi confermare, da poco. No, scusa se rimango sull'allenatore. Perché hai fatto il nome di Spalletti. Stiamo parlando di Consensau. C'è Spalletti come alternativa italiana da tenere in posizione? Per me per distacco. Per distacco. C'è qualcun altro o no, secondo te? Io guardo, allora, riepilogando. Spalletti italiano, che potrebbe essere un nome, ha un impegno con il Sassuolo, già da tempi non sospetti, però deve parlare con una nuova proprietà seria, competitiva, che gli offrirà un rinnovo, un adeguamento e un ruolo da manager. Non so cosa deciderà. Juric, ammesso non concesso dopo ieri, ma comunque lui, il Cagliari oggi ha scavalcato il Torino su un'offerta da 2 milioni di Cairo, che deve parlare con Nicola, oggi 2,5 con i bonus, il Cagliari, contratto biennale più opzione e credo che stasera, Juric, sia più indirizzato verso Cagliari. Spalletti sarebbe tornato al Milan in un momento difficile. Adesso io non voglio fare i confronti, ma il Napoli è un grande brand. Spalletti non tornò a lavorare perché aveva quel contenzioso trattino ripicca con l'Inter e disse al Milan o l'Inter mi paga tutto o io non vengo, ma adesso Spalletti ha una fame e una voglia che i contatti ci sono stati, quindi io tra le due cose, perché con CSAO c'è una cosa in piedi sicuramente, poi come dice Carlo, De Laurentiis è un uomo che stanotte ricambia quello che ha fatto la notte prima, se mi chiedi una scelta, io ti dico la continuità nella storia del Napoli, la coerenza nella scelta degli allenatori, il voler puntare sugli emergenti come Sarri, scommessa vinta, su quelli che hanno che dovevi rilanciare spendendo come Ancelotti, per me Spalletti vince per distacco su qualsiasi tipo di ipotesi. Annuisce anche Carlo. Ila? È il momento per un buon caffè, un caffè a loia. Però rimarremo sulla questione allenatore e poi dopo proveremo a leggere le carte di un potenziale possibile, anzi possibilissimo ridimensionamento nei conti, in un monte in gaggi che era già esorbitante, ci sono calciatori ormai impredicati di andare via, lo erano prima in caso di Champions raggiunta, immaginiamo oggi con l'Europa League e poi anche la questione dei rinnovi perché anche lì con i rinnovi alcuni importantissimi in piedi questo mancato raggiungimento dell'obiettivo andrà a sortire delle conseguenze inevitabili. Pubblicità e ripartiamo. Eccoci, siamo pronti per il nostro rush finale, ultimo blocco per chiudere questa avventura stagionale con Ne parliamo il lunedì. Allarme rosso, temete il ridimensionamento? Sì, inevitabile, no. Guardate la seconda voce. Sì, inevitabile, no. C'è il tesoretto. No, tesoretto è bello che tesoretto. Sì, io credo che Carlo Alvino un po' di puntate fa, anzi proprio all'inizio, disse ragazzi, se non andiamo in Champions da così a così, me lo ricordo ancora, il gesto se lo ricordo anche lui. È naturale che senza quei 50 milioni complessivi della qualificazione Champions in Napoli va in difficoltà, va in difficoltà economica, con quei soldi avrebbe potuto portare Allegri che se non va a Real Madrid io non so dove va, se resta ancora… Bisogna capire come finirà tra Conte e l'Inter, perché comunque non è una spartita semplice questa qui. Però io dico il ridimensionamento c'è perché parte Coulibaly, parte Fabian che come diceva Alfredo ha già un accordo con l'Atletico Madrid dalla scorsa stagione, dalla scorsa estate, in signe senza Champions e con il contratto in scadenza andrà via, quindi una parte di ridimensionamento la devi rifondare questa squadra, secondo me anche con i giovani, però mi insegnate che con i giovani puoi andare bene, ma non benissimo. Scusami Alfred, voglio ricordare una cosa che dalle lacrime e dal nostro malumore, non tanto alto e sentito come quello di ieri, però seguito a Napoli Lazio 2 a 4 con calcio di rigore fallito dal Pepita, con aria di smobilitazione, perché praticamente erano dati tutti per partenti, arrivò Maurizio Sarri la grande scommessa ed è nata la cosa più bella. Iguain che furono aggrediti all'uscita dal San Paolo nel tassi. Nel tassi, Iguain stava con la madre nel tassi e arrivarono due scooter che gli davano i calci e quindi si dava il Napoli per morto e finito. Adesso qualcuno si ribendeva, io di quella storia mi ricordo che il giorno dopo Benitez aveva già l'aereo pronto per Madrid, che è la cosa che mi ha disturbato di più di quella storia, con tutta l'ammirazione per Benitez, per quello che aveva fatto, ma il giorno dopo, una notte cruenta, aveva il reale, ma pure io posso avere il New York Times, però se fino a 5 minuti prima sto da un'altra parte, al New York Times, grazie, sono onorato, aspettate nel 4 giorni, mi colpì molto il giorno dopo, c'era l'aereo, lo prenoti 48 ore prima, io penso che 48 ore prima tu debba pensare a Napoli Lazio, lo prenoti 48 ore dopo. Allora io fecero addirittura la conferenza stampa pre-partita, una cosa mai vista, non post-partita, pre-partita per dire ci salutiamo. La cosa benissima che ricordi di quella conferenza fu il passaggio del Presidente sorridente con la sua maschera e diceva vi prego anche a voi di ringraziare il grande cavaliere dei Cavalieri di Spagna, ti ricordo questo passaggio? Sì, però va detto, ma ha anche detto, Carlo, ma ha anche detto che lui doveva rimanere un anno, poi questo è un altro spazio però. era il 34-3. Il 34-3 arrivò David Lopez. Io ti volevo dire, adesso non per dare una caramella perché i tifosi del Napoli stasera non hanno smaltito, io parlerei più di dimensionamento che di ridimensionamento, sono sincero, perché ti devi dimensionare in base a una realtà. Tu pensa a cosa sarebbe stato il Napoli con Allegri, per me favorito per lo scudetto l'anno prossimo, con due operazioni dentro questa squadra. Siamo pure che il dimensionamento o il ridimensionamento vale per tutto il calcio italiano. Esatto, per me e chiudo, hai un dovere, che quelli che stanno in scadenza nel 2023 non devi fare opera di cabotaggio tipo Milik che perdi tempo perché altrimenti l'anno successivo prendi 20 milioni, quindi tutto è subito, due situazioni, tutto è subito per me, Coulibaly e Fabio Ruiz, ti danno 45 per Coulibaly, prenditi questi 45 che l'anno dopo ne prendi 30, che Coulibaly c'ha 30 anni, guadagna tanto, se l'atletico ti confermasse quello che fa, ti fai un segno della croce, 50 milioni e vai a fare il giro di tutte le parrocchie per ringraziare il tuo dio calcistico perché è una roba, per insegne ed entro fuori subito perché altrimenti vai allo sfinimento su determinate cose che ti metterebbero ancora più difficoltà. Alfred ora sfoglieremo anche. Stanno chiesti Chiari di Luna i 5 milioni che chiede insigne per 5 anni? Però con ordine, tra pochissimo riprenderemo la rosa e quindi andremo a sfogliare uno per uno la situazione, i possibili partenti e quello che potrebbe avvenire. Vi vedevo annuire a proposito del dimensionamento perché a qualcuno è sfuggito un po' e quasi come fosse diventata negli anni cosa normale stare lì e ambire a mettere la ruota davanti a Piuve sempre con continuità. Questo è il grande merito di quest'uomo, il fatto di aver portato la mentalità napoletana a credere che si possa vincere. Poi, ma quello non vuole vincere, queste sono le cose che dicono, però la verità è che tu sei da 6, 7, 8 anni a questa parte, pensi di poterti qualificare alla Champions, di poterti giocare allo scudetto e perché si è creato nel tempo un certo tipo di mentalità grazie a questa persona qua. Poi c'è da fare giustamente una sottolineatura. Cosa manca per poter vincere? Ogni volta arrivi fino a 90 ma a 100 non ci arrivi mai. Parlare di dimensionamento adesso credo che sia perfetto perché la dimensione del Napoli con grande onestà non è quella di vincere lo scudetto. Storicamente il Napoli ha vinto due scudetti in 100 anni di storia. Con il dio del calcio. Con il dio, cioè hai avuto il migliore di tutti i tempi e hai vinto solo due scudetti. Questo vuol dire che tu non sei storicamente una squadra che deve lottare per vincere lo scudetto dove metti un allenatore, un gruppo di giocatori, credere in un progetto tecnico e farlo stare lì 3, 4, 5 anni. Possibilmente serenamente. E probabilmente alla fine del serzo o del quarto ti giocherai qualcosa di importante. Se si capisce che questa è la dimensione del Napoli probabilmente serenamente all'inizio dell'anno non si parlerà di obiettivi fantasmagorici ma di cose serie, tranquille e serene che permetteranno all'allenatore e eventuale direttore di lavorare in serena. Però mi piacerebbe che fosse la società a indicare l'obiettivo. A me piacerebbe che il Napoli potesse comunicare senza avere timore di avere poi una parte della tifoseria contro. Sai perché non lo fa? La Canto già ce l'ha. Sai perché non lo fa? Te lo dico molto semplicemente. Uno perché già i pareri contro questa persona o questa società non è che sono idilliaci da parte di tutta la gente. E poi io credo anche a livello commerciale comunicare faremo una stagione da sesto, settimo, ottimo posto. A livello commerciale ti porta una perdita di appeal anche in termini economici. Dico un esempio stupido. Lo sponsor che ti dà 3 milioni di euro perché tu probabilmente lotti per i primi 4 posti. Se capisci che la tua comunicazione è una comunicazione da settimo, ottimo posto, dici guardi sì io lo sponsor lo voglio fare ma non te ne do 3, te ne do 2, 2, 2, 3 e iniziano a essere anche introiti diversi. Perciò una società difficilmente può fare una comunicazione così diversa rispetto a quello che hanno fatto oggi. La comunicazione poi è giusto farla fare secondo me all'ufficio stampa ma è giusto farla fare anche ai tecnici che quando vengono presi il giornalista gli farà la domanda. Mister qual è l'obiettivo? Non pensi che un tecnico con una squadra discreta, mediocre ti dice voglio vincere il campionato e voglio arrivare nei primi 4. No però a Napoli abbiamo avuto il triste ricordo di una dichiarazione di Carlo Ancelotti che evidentemente non ha portato bene né a Ancelotti né al Napoli. Lo scudetto stanchi del secondo. No, è stanchi del secondo. E infatti è arrivato guarda. Quinte. Posso aggiungere una cosa? Se guardo questa squadra e l'analizzo nell'andamento che c'è stato quest'anno il reparto che mi ha deluso e che va sicuramente messo a posto è la difesa. Non c'è dubbio. La difesa è oggi il primo intervento perché se tu vai a vedere Di Lorenzo è quello che secondo me ha più certezze di tutti. È ovvio. Se Koulibaly va via però Isai, Mario Rui, Rachmani, anche se ha fatto bene, Maximovic, lo stesso Manolas. È stato un Napoli che nella fase difensiva ha avuto un tenore di livello rispetto alle altre squadre più basse. Rivediamo un attimo. Infatti rivedere il pagiolone generale così andiamo nel dettaglio. Perché Dario ha chiaramente anticipato quello che è un argomento che noi avevamo già trattato le scorse settimane. Guardiamo un attimo il reparto arretrato. È così. Rachmani è quello che resta. Isai va via. Di Lorenzo è la certezza. Koulibaly impredicato di partire. Numero uno. Immagino numero due Fabian Ruiz per quello che abbiamo detto fino ad ora. Manolas resta. Maximovic è già andato. Mario Rui. Mario Rui c'è il rinnovo 2023. Eh sì, però oggi devi mettere uno davanti. Mario Rui fa l'alternativa al titolare. Il Napoli deve prendere un terzino sinistro titolare, titolare per cercare di essere al top in Italia e fare bene in Europa. Quindi ci vuole un terzino sinistro vero. Non so se rendo l'idea. No, no, rendi perfettamente l'idea. Per fare io a Mario Rui l'alternativa alta. A Mario Rui. Ah sì? Col piede che ha? Sì. Cioè nel senso se tu hai detto un terzino giusto lo puoi tenere in alternanza. Tanto lì giocherà sempre in signe. Non è d'accordo Monte. No. Tanto lì giocherà sempre in signe. No, non sono d'accordo in questo. Se resta, se resta in signe. Aspetta, Salva, perché non sei d'accordo? No, non sono d'accordo perché secondo me ha finito il suo ciclo, anche lui a Napoli. È vero che purtroppo provarne due di terzino sinistro, già uno non si trova, figuriamoci due. Quindi capisco, però è un'unica alternativa all'eventuale titolarissimo che arriverà, speriamo. Davanti non lo vedo perché non ha quella qualità anche nell'uno contro uno. Sì, sicuramente ha un piede per poter crossare, per poter fare, però fondamentalmente non mi piace in quella posizione là. In mezzo al campo la situazione non è che, allora, c'è Zinischi, la certezza, Bacayoko torna al mittente. C'è Dem che resta. C'è Dem che resta. C'è Lobot che ha 25 milioni, non capisco che cosa sia successo a questo. Di tutto e di più, è successo tranne il campo. Elmas resta, Fabian va via. Fabian va via. Allora, la difesa va ristrutturata. Il centrocampo va rinforzato. Il centrocampo va rinforzato. Davanti stai bene. In base agli obiettivi, davanti sempre grande abbondanza, prima Alfredo faceva il passaggio su Mertens, perché c'è il secondo anno. Io credo che si possono fare due passaggi, Petagna che magari, non lo so, non credo che lui voglia sempre fare il quinto della compagnia e magari qualche seriala trova per giocar titolare e Mertens che ha rinnovato, come ha rinnovato, per scelta sua, magari ha delle ambizioni diverse. Torno al discorso di prima, per fare quello che giustamente dite voi, c'è il terzino sinistro perché adesso Emerson Palmieri lo prendi a un anno dalla scadenza, ma devi giocare in Champions, che ha un contratto che scade nel 2022. Devi accelerare le uscite. Chiaro. Devi fare Coulibaly e Fabio Ruiz, senza cercare aste, perché le aste ti condizionano il lavoro, devi cambiare, devi fare... Ma questa eccessione, chi le deve fare? De l'ora io le devo fare, le deve fare il direttore sportivo, non è questo il punto di prima, e le eccezioni si possono fare anche da separati in casa. Il punto che cercavo di dire prima è un altro. Se Montervine è separato in casa con il suo club, le eccezioni le può fare uguale, bisogna vedere fino a quando questa corda non si spezza definitivamente se non si è già spezzata. Ma le eccezioni, è normale che si è pagato per fare le eccezioni, ma perché quando ha ceduto Milik che andavano da morire d'accordo? L'ha ceduto, ci ha lavorato pure lui. Ancora, ancora, a Capri stavano meglio. Ma quando a Capri? Ad agosto? Ad agosto. E per Milik quando è andato via poi? Sì, nel senso che quando si parlava... Passata poi di acqua sotto i ponti. A proposito di Insigne, perché poi tutto gira attorno ad Insigne e ad un rinnovo che potrebbe, ascoltando un po' voci della parte, richiedere 5 milioni a stagione per 5 anni, 25 che diventano 50 lordi. In questo momento senza qualificazione è impensabile. Però ti posso dire che se Insigne chiede 5 anni a 5 milioni, vuol dire che c'è qualcuno che glieli dà. Hai voglia. Nel senso in giro. Vabbè, ma non c'è, non c'è. Io penso, Dario, non c'è dubbio. Nel calcio di oggi, c'è ancora questa disponibilità economica. Carlo, io penso solo una cosa, perché siccome hanno fatto una filosofia su Donnarumma che nessuno potesse dargli 12 milioni e qualcuno vedrà che glieli darà e che non è il Milan. Io penso che quando tu sei un anno nella scadenza dipende dal cartellino, che chiedi. Se tu chiedi 50 milioni non te li dà nessuno, se tu chiedi 25-28 milioni l'ingaggio te lo danno. Perché comunque è l'ultimo, sarebbe l'ultimo o forse il penultimo contratto più importante della sua carriera, perché gli auguro di giocare fino a 38 anni, però se lo fai a 30 per altri 3 anni o 4 anni è il penultimo decisivo. Dipende da quanto chiede. Torniamo a prima. Se Coulibaly ti danno 40, li devi prendere. No, ma lì non ci piove. Non ci piove, ma lo sai che Coulibaly non è andato, è fatto palo, riga, palo, riga, palo, riga, traversa, riga per 5, 6, 7 milioni in più che legittimamente a quei tempi che devi. Forse altri tempi, Alfredo. Forse altri tempi, però non è una critica e forse è un elogio. De Laurentiis, non so se è una critica o un elogio. Forse in questo caso sarebbe una critica. Quando vende alza l'asticella, per lui non esistono altri tempi. Per un presidente così, non lo so, è una cosa da valutare con grande attenzione perché è decisiva allenatore o non allenatore sulla stagione. La congiuntura di quei momenti era una congiuntura completamente diversa, sia economicamente parlando. Tu eras un Napoli in Champions League, un Napoli che voleva vincere dichiaratamente, quindi aveva blindato i suoi. E' più merito che critica, dai. No, è coraggio, coraggio, ragazzi, perché io ho difficoltà a credere che un altro club poteva dire di no al Manchester United, quello che ha offerto il Manchester United per Colibali. Quindi, voglio dire, in quel momento bisogna, perché poi a posteriore ha sbagliato il presidente, doveva venderlo. Quando sento dire lo accompagno io, ma chi ha accompagnato? Ma chi ha accompagnato dopo tre ruote, ha accompagnato dei sacchi di patana, quello orse. Lo accompagno io, quando sento queste cose imbazziscono. Invece bisogna apprezzare che in quel momento particolare, avendo il tesoretto bello florido, la partecipazione in Champions League e la voglia di vincere, il presidente ha detto no alla cessione di Colibali. Io lo apprezzo da tifoso del Napoli. Poi a posteriore, ma come Isai? Il Chelsea voleva Isai e tu non gliel'hai portato con la carriola. Il Chelsea voleva Isai, 40 milioni, 50 milioni. Mi ricordo ancora quando la Juve voleva Zuniga e Zuniga saltava in campo, chi non salta è bianconino. Il fenomeno Zuniga. Tante volte il presidente si è fatto prese, però adesso non sono più quei tempi. No, questo va detto con chiarezza. Lo dico con assoluta certezza. Oggi il Napoli può dire sì a chiunque viene a bussare alle condizioni del Napoli, per chiunque. Anche se ci sono dei giocatori punti fermi, che sono Lozano, Zilischi, Mosimen, questi sono i punti a fare. La fascia più giovane. Perché dicevi anche su Lozano, bisogna fare una riflessione, si farà una riflessione. Devo dire che comunque i punti fermi sono quei tre che ha detto Carlo, però cambiano gli scenari. Cioè nella testa di un calciatore, per chi segue questa storia da 30 anni, e voi lo sapete meglio di me, un conto è se tu pensi di giocare in Champions, un altro paio di mani che se in Champions non si giochi. Non ti sto dicendo che andrà via. Ma non ci sei arrivato tu però. Come? Tu adesso mi stai facendo l'editoriale alla fine, ho capito che non ci sei arrivato. Io ti sto dicendo qual è la psicologia di un calciatore che… Lo so, lo so. Poi alla fine quei tre resteranno, ma faccio una scaletta, ci sono gli europei di mezzo, rischi di essere strangolato, devi fare le cose per tempo prima e devi farle bene, perché la squadra la devi preparare. È una rivoluzione, parte un'altra alba del Napoli, l'altra alba la devi fare arrivare alle sei e mezza di mattina, non alle otto. E quindi queste cose qui le devi fare per tempo, perché poi un allenatore nuovo lo devi mettere anche nelle condizioni… Quindi sono degli incastri che vanno fatti… Come si dice in gergo politico, devi calendarizzare le sedute, le devi calendarizzare al più presto possibile. Questa sarà la settimana del nuovo allenatore. Dalla settimana del nuovo allenatore in poi è chiaro che devi cominciare a fare quel tipo di discorso che diceva Alfredo, con i tuoi dirigenti, quelli che c'è più a stretto contatto. L'alletatore per quanto riguarda il campo, il direttore sportivo per quanto riguarda la scrivania. Ribadendo… Volevo chiedere ad Alfredo, visto che non si è sicuro di niente, e Murigno insegna, Sarri già fatto alla Roma, si può pensare che nel caso in cui Allegri non andasse al Real… Guarda, io ti dico soltanto questo, da cose verificate, Allegri non può permettersi un terzo anno sabbatico. E questo volevo dire, tornerà ad allenare. Adesso senza la Champions, sono sincero, Allegri è uno che ti chiede, anche quel minimo sindacale, quindi già quando facciamo il discorso che Fabian deve andare via, Coulibaly deve andare via, già è una cosa non per Allegri, se tu mi dici Allegri Fabian deve andare via, ma ti prendo… De Pollo, Coulibaly deve andare via, ma ti prendo il difensore che io seguivo dai tempi della Juve, è già diverso, così la vedo come… Su Spalletti, premesso che con César è una verità, perché è una verità, non è che stiamo smontando con César, Spalletti è uno che ha talmente voglia che sul mercato, l'ha dimostrato anche all'Inter, non ti chiede, allena quel… ti chiederà, fammi due o tre cose, prendimi il terzino sinistro perché io gioco così, giocavo così alla Roma, ma è già diverso, io se dipendesse da me, ma non dipendere da me, stasera, anche se con César e 80, quei 20 farei diventare 90 domani Spalletti, perché con Spalletti, senza nulla togliere con César, ridaresti un senso a una progettualità tattica con certezze, perché Spalletti è un grande allenatore. Gli uomini di campo, cosa ne pensate di questa analisi? Abbiamo pian pianino, dall'inizio della trasmissione, riletto i fatti, scoperto le carte, dichiarato quella che inevitabilmente non c'era neanche bisogno di noi, sarà la prossima dimensione del Napoli, da progetto chi potrebbe essere? Io concordo con Alfredo, io sono forse uno dei primi a dire che Spalletti poteva essere l'allenatore giusto per il Napoli, perché ha una voglia matta, perché io l'ho avuto come allenatore, è un grandissimo allenatore, tatticamente forse uno dei migliori che c'è in Italia. Hai avuto anche Presidente dell'Aurentis, leggo di tantissime cose, tante previsioni, sarebbero scintille dopo due minuti. Ti posso dire una cosa? Guarda che fondamentalmente hanno un grande carattere, ma sono due persone intelligenti, non sono due stupidi, Luciano è carismatico, ha voglia, è uno che non si fa passare la mosca davanti al naso, però è una persona estremamente intelligente, poi viene comunque da due anni anche lui, giusto, che allena, penso che a un certo punto ti viene data la possibilità di allenare il Napoli dimensionato, sicuramente non è quello che forse avrebbe sperato, ma per me è un allenatore che può aprire un ciclo, può fare, sicuramente oggi con una dimensione nuova sarebbe stato bello prendere il De Zerbi di turno e partire con un ciclo completamente diverso, non è possibile, è andato già lo Shakhtar, se Alfredo mi conferma, giusto? Ha detto lui, è andato, voglio sentire anche Dario e poi siamo addirittura d'arrivo. Spalletti secondo me è l'entusiasmo di tornare ad allenare, anche perché in Italia non può andare più da nessuna parte, sì poteva andare al Milan, però il percorso del Milan poi è cambiato nel tempo, quindi oggi per lui il Napoli è un po' quello che è stato per Ancelotti il Napoli, nel senso che comunque è un grande ritorno, ma anche l'entusiasmo di portare una squadra, cioè il fatto che un Europa League provare a portarla in Champions può essere anche un bel trampolino, è ovvio che con Senzao sarebbe la novità, la novità di un allenatore che oggi dopo quattro anni al porto comunque ha vinto, perché comunque possiamo ritenerlo un emergente. Ida, bentornata. Grazie mille. Fortissimo a Pasquale Cassese. Facciamo i complimenti a Pasquale Cassese perché da domani è ufficialmente un associato di Confindustria, quindi è riuscito ad entrare anche in questo contesto e quindi gli facciamo i complimenti. Grande Pasquale, un abbraccio fortissimo. Noi siamo arrivati in chiusura e la squadra la ringraziamo, è un applauso ideale, ma anche di fatto lo avete meritato da parte nostra, dell'emittente e anche i consensi che il pubblico ci ha confermato in questa stagione molto lunga che davvero speravamo di poter concludere raccontando un piazzamento Champions. Non è andata così, però alla fine… Giudice mi fa dire una cosa, io volevo ringraziare in modo particolare perché sono 30 anni che faccio trasmissione a Napoli, sono tornato qui e posso stare solo qui, nel senso che prima di qui non sono andato da altre parti, per cui è il senso di gratitudine perché ho trovato degli amici, ci siamo divertiti, abbiamo parlato di calcio e qui lo si fa in maniera seria e vi ringrazio per… Conoscendo Alfredo sta dicendo la verità. È il mio procuratore adesso. Sì, è vero perché ci confrontiamo spesso, è vero e devo dire che se non viene qua non può andare da nessuna parte. Hai capito cosa è successo? Cassese in Confindustria, tac, la procura di penula… Lui è il portavoce di due o tre persone. Quello è in automatico, scattano le cose. Va bene, grazie di cuore ai due capitani, Ciccio Montervino e Dario Marcolino. Grazie a voi, grazie a voi e buonanotte. Tutto bellissimo. Grandi amici. Tranne l'ultimo risultato. Eh, lo so, a chi lo dice. E grazie di cuore a Carlo Alvino. Grazie a te, grazie a chi ci ha seguito, grazie agli editori. Ancora una volta posso dire, non è retorica la mia, che mi sono sentito a casa, veramente a casa. Sono un ritorno a casa. A casa e in famiglia, sì, un ritorno a casa. Grazie, grazie a Carletto. Cagliazza, io ti faccio i complimenti, nuovo… Grazie, grazie a te, grazie a tutti. Nuova procura. Questa è casa mia, ormai sono sette anni che sto qua, ne ho visti tanti passare in questo studio, devo dire che nessuno me ne voglia. Quest'anno è stata una squadra bella, bella compatta, bella forte e ripeto, non siamo andati in Champions, ma noi siamo da Champions. Va bene, l'autoproclamazione. Grazie a Ilaria Menozzo che ha da ricordare anche un bel po' di amici sponsor. Eh sì, io ringrazio ovviamente tutti i nostri partner commerciali perché ci hanno sostenuto come sempre, quindi Luigi Fusaro, Euronics Gruppo Tufano, Energas, Caffè Aloia, PC Distribution per PowerX e Arenaccio CRA Group. E ci tengo davvero in chiusura a salutare, idealmente con un abbraccio, i colleghi che hanno curato la parte tecnica, che sono la vera perla, il vero tesoro nascosto al di là del vetro, qualcuno riesco a vederlo anche da qui, anche da qui, la vera risorsa di questa emittente. Grazie di cuore a voi e... Ci vediamo... No, ci vediamo domani, ci vediamo domani alle 17.40 con il filo diretto, noi non ci fermeremo, assolutamente. Poi c'è la replica. Subito dopo. Ah, poi ci vediamo a settembre, no? Poi ci vediamo a settembre e continueremo a parlare di lunedì. Grazie davvero a tutti. Grazie Silve. Buonanotte, ciao. Buonanotte. Grazie.